La Russia sì, è definitivamente parte di questa campagna elettorale. La vicenda dello spionaggio sulla quale la destra italiana non ha detto niente, la questione delle ingerenze, delle influenze che stanno avvenendo, è chiaro che se si è patriotti, se si è per l'Italia, si deve condannare, se essere contro questo tipo di ingerenza. Non è possibile che le nostre elezioni siano influenzate da una potenza straniera ostile come oggi la Russia di Putin. Noi siamo coerenti, siamo seri e lineari su questo. Dall'altra parte la destra italiana è drammaticamente ambigua, non si può essere patriotti e essere amici della Russia di Putin, no.